Si tiene oggi a Pescara il convegno organizzato dalla FISAC CGL Abruzzo Molise, FIRST CISL Abruzzo Molise, UICA Abruzzo e Molise e ANAPA, Associazione Nazionale Agenti Professionisti di Assicurazione sulla Sicurezza e Salute nelle Agenzie di Assicurazione. Il dibattito del convegno verterà sul protocollo siglato a livello territoriale sulla regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento del virus Covid-19 ed approfondirà il piano di valutazione dei rischi luoghi di lavoro delle circa 400 agenzie assicurative presenti in Abruzzo, ambienti caratterizzati da alta occupazione femminile. La situazione nelle agenzie di assicurazioni in Italia oggi credo sia una dimostrazione di resilienza. I dipendenti delle agenzie insieme agli agenti hanno dimostrato in questo anno e mezzo di pandemia di essere in grado di gestire tutte le necessità dei clienti facendo enormi sforzi in primis cercando di trovare le soluzioni per mettersi in sicurezza. Dobbiamo dare atto alla parte datoriale che rappresenta nella circostanza le agenzie assicurative e libero appalto di aver maturato da sempre nei confronti dei sindacati che aderiscono al contratto unico che è perlomeno riconosciuto dal governo che è quello con la triplice confederale più l'FNA di aver assunto sempre un atteggiamento estremamente collaborativo che origina sicuramente dal tema della salute e sicurezza sugli ambienti di lavoro ma che ha portato a stringere accordi davvero di ampia portata soprattutto nell'ambito delle assicurazioni, della previdenza e delle indennità a favore dei dipendenti di queste agenzie. Diciamo innanzitutto che anche noi, anche questo settore è rimasto particolarmente colpito dalla pandemia perché ovviamente essendo noi a contatto con il pubblico non possiamo che avere tutti i problemi di quelle attività che sono soggette ad incontrare quotidianamente i clienti che vengono a trovarci. Tuttavia è l'occasione di oggi, lo testimoni, la particolare attenzione che noi abbiamo nei confronti dei nostri dipendenti ci porta a dover adottare ovviamente, ma non solo dipendenti, anche dei clienti evidentemente, delle misure straordinarie che ci consentono da oggi e per il futuro di lavorare in maggiore tranquillità. Per questo siamo oggi qui insieme ai sindacati a discutere di sicurezza nei luoghi di lavoro. Noi abbiamo deciso di fare un comitato chiaramente con gli agenti, rappresentanti degli agenti di Anapa perché è un settore non molto conosciuto però ha tantissimi lavoratori che lavorano in questi piccoli luoghi e molto spesso sono un po' lontani da quelle che sono le possibilità di avere delle certezze in termini di sicurezza andare a controllare. Con questo comitato prendiamo insieme la decisione di fare questo percorso comune per garantire questa sicurezza in questi luoghi di lavoro.